Sette consiglieri comunali di maggioranza, primo firmatario Giacomo Guadagnini del Partito Democratico, hanno presentato una mozione al Presidente del Consiglio Comunale di Carbonia, Federico Fantinell, al Sindaco Pietro Morittu e alla Giunta, sullo Stato in cui versa il canale di guardia e sulla progettazione dei lavori. Premesso che negli ultimi anni si sono verificate diverse condizioni alluvionali che hanno causato ingenti danni a cittadini, abitazioni, percorsi stradali e autoveicoli addirittura trascinati dalla violenza delle acque piovane, scrivono nella mozione i sette consiglieri Giacomo Guadagnini, Yvonne Fraternale, Antonio Caggiari, Rita Vincis, Gianluca Arru, Diego Fronterè e Giuseppe Giganti. È considerato che la Commissione Lavori Pubblici si è riunita nove volte per approfondire e conoscere i tempi della progettazione del canale di guardia e dell'utilizzo di circa un milione di euro a disposizione da circa 15 anni, rilevato che a tutt'oggi, si legge ancora nella mozione, non si hanno notizie confortanti sullo stato dell'arte della progettazione, è preso atto che esiste una forte preoccupazione dovuta a quanto accaduto e a quanto non si vorrebbe accadesse ancora, per le alluvioni previste per gennaio e febbraio, la mozione impegna il Sindaco e la Giunta a fornire un puntuale aggiornamento attraverso un attendibile cronoprogramma sullo stato della progettazione in linea con le temute e attendibili emergenze.